Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Udinese TV. Troppi lati oscuri ma soprattutto un ipotetico danno erariale alla regione. Per questo motivo il PD ha depositato un'istanza per verificare le responsabilità dell'assessore Riccardi degli uffici regionali sulla nomina di Amato De Monte al Sores. Una nomina arrivata già a concorso indetto e che di fatto lo ha sospeso scatenando molte polemiche. Sentiamo Diego Moretti del Partito Democratico. Con l'esposta alla Corte dei Conti abbiamo voluto chiedere chiarezza rispetto ad alcuni temi specifici legati a possibili danni erariali legati alla vicenda della nomina del dottor Amato De Monte alla guida della Sores a Palmanova. Attendiamo l'esito di questo nostro esposto. Per noi gli elementi sono validi. Rimane del tutto aperto il giudizio politico sulla vicenda che per noi è assolutamente negativo rispetto alla scarsa trasparenza, alle assolute perplessità sulla procedura adottata e alle questioni che già in passato, che nel recente passato avevamo segnalato con gli atti ispettivi in Consiglio regionale, quindi richieste di audizioni, interrogazioni e prese di posizione. Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti contro i 39 della settimana precedente. Nel periodo 15-28 settembre l'RT medio, calcolato sui casi sintomatici, è stato pari a 0,83 al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in nieve diminuzione al 4,8%. Il tasso di occupazione in aree mediche diminuisce al 5,1%. Quattro regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato. Si tratta di Basilicata, Trento, Bolzano e Valle d'Aosta. Le restanti 17, quindi anche il friù di Venezia Giulia, risultano classificate a rischio basso. Continuiamo a parlare di sanità, perché nel reparto di urologia a Gorizia è stato portato a termine con successo il primo intervento con il robot chirurgico, un intervento su un paziente affetto da neoplasia prostatica. Vista la buona riuscita dell'intervento, per le prossime settimane sono previste altre due sedute operatorie robotiche per l'urologia, arrivando ad eseguire gradualmente fino a 5 sedute settimanali complessive. La chirurgia robotica assistita costituisce ad oggi l'ultima evoluzione della chirurgia mini-invasiva, integrando una visione 3D ad altissima definizione, con un sistema di controllo degli strumenti che consentono l'esecuzione di interventi complessi con una minore perdita ematica intraoperatoria e un decorso post-operatorio migliore. In occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione contro l'obesità e il sovrappeso, che si celebra il 10 ottobre, l'organizzazione di volontariato udinese Diamo Peso al Benessere rilancia un'iniziativa per conoscere il percorso terapeutico gratuito di perdita di peso e conquista del benessere. Sentiamo uno degli esperti di Diamo Peso al Benessere, lo psicologo Federico Bertolini, intervistato nell'area del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria presso il Parco di Santo Osvaldo. Diamo Peso al Benessere dal 2001 si occupa di dare risposte concrete al disagio del sovrappeso e dell'obesità in tutto il territorio regionale e dal 10 ottobre, che è la giornata nazionale di sensibilizzazione del disagio del sovrappeso e dell'obesità, proponiamo e rilanciamo la nostra attività con un mese intero di colloqui motivazionali gratuiti che si possono prenotare presso il nostro sportello d'ascolto al 340 289 1151. Voi proponete un percorso terapeutico definito innovativo, perché? È innovativo, intanto mi piace ricordare che in 20 anni di attività l'associazione ha coinvolto nel suo percorso più di 2.000 persone in 77 gruppi di lavoro che si sono svolti, sì nel comprensorio del Dipartimento di Salute Mentale di Udine, ma anche in tutta la regione. Siamo innovativi perché? Perché proponiamo un percorso che si basa sulla riscoperta delle risorse personali, sulla responsabilizzazione della persona nella gestione della propria salute, quindi lasciamo perdere le deleghe, prendiamoci carico della nostra salute e cerchiamo di cambiare assieme. Come? Attraverso un percorso di gruppo che dura otto mesi, una volta alla settimana, un'ora e mezza, con un esperto di self-empowerment, che è il nostro metodo di lavoro, e che porta, negli anni, ha portato dei risultati sia di calo ponderale, ma soprattutto di cambiamento della persona. Che dati avete in merito alla problematica dell'obesità e del sovrappeso sul territorio? Sì, un recente studio da parte di Coldiretti ha sottolineato che durante il periodo dei due lockdown in media le persone sono aumentate di peso di 4,5 kg. Quindi è evidente che c'è stato un problema durante questi periodi di chiusura, di sosta forzata, e che il cibo più volte ha rappresentato una scappatoia, una via di uscita. Voltiamo pagina adesso e ci spostiamo a Tor Viscosa. Innovazione, tecnologia e sostenibilità sono queste le caratteristiche del nuovo reparto produttivo dello stabilimento Bracco Spin di Tor Viscosa, visitato oggi dal presidente della regione, Massimiliano Fedriga, insieme a Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e CEO di Bracco Imaging. Un investimento che permette di espandere del 30% la capacità produttiva dello stabilimento per soddisfare la crescente richiesta dei mercati esteri, dei mezzi di contrasto a raggi X. L'impianto del gruppo Bracco, frutto del recupero di una parte dell'ex Caffaro, ha sottolineato Fedriga, è un esempio virtuoso di riconversione che poggia su investimenti in ricerca e ha come obiettivo fare impresa in modo sostenibile. Il sito di Tor Viscosa per il gruppo Bracco è e sempre sarà strategico, ha detto Fulvio Renoldi Bracco, è da oltre 20 anni che investiamo qui con convinzione e attaccamento verso questo territorio. Lo dimostra anche il fatto che i lavori per la costruzione della nuova linea sono stati portati a termine durante uno dei momenti più difficili della storia, la pandemia di Covid-19. Nello stabilimento Spin, realizzato alla fine degli anni 90, recuperando gli edifici di grande valore storico disegnati nel 1938 dall'architetto Demin, oggi lavorano 150 persone e per il futuro Bracco a Tor Viscosa ha in programma un altro importante progetto, il progetto Galileo, un investimento del valore doppio rispetto a quello appena concluso, ha spiegato Fulvio Renoldi Bracco, in infrastrutture, impianti, attrezzature e posti di lavoro. Il progetto infatti prevede, oltre al rafforzamento della leadership di Bracco nella diagnostica per raggi X, TAC, anche un aumento della forza lavoro e notevoli benefici di medio-lungo periodo per tutto il sistema economico-sociale di Tor Viscosa. Queste le parole dei vertici della Bracco. Saranno erogati entro la prossima primavera i ristori previsti dal Fondo regionale per i soci creditori di Copca e Cooperativi Operaie di Trieste, 17 milioni in totale. Oggi la Giunta regionale ha delegato alla Camera di Commercio Venezia Giulia e alla Camera di Commercio di Pordenone Udine la gestione dei procedimenti amministrativi. Il ricorso alle Camere di Commercio, ha spiegato l'assessore alle finanze, Barbara Zilli, ci permetterà di attivare una procedura snella. L'avviso sarà pubblicato sul sito della Regione degli enti camerali entro il 15 ottobre. Dopo il tempo a disposizione per la raccolta delle domande, le istruttorie consentiranno di giungere alla concessione e all'erogazione dei ristori già entro la prossima primavera, ha concluso l'assessore regionale. E sempre la Giunta regionale, nella riunione di oggi, ha definito i contributi massimi rispettanti alle famiglie per il bonus a sostegno della genitorialità, quindi per la copertura delle spese, per asili nido, babysitting, servizi educativi. I beneficiari del provvedimento sono i nuclei familiari titolari di carta famiglia, in cui almeno uno dei genitori sia residente in Regione da almeno due anni e con un ISEE per l'anno 2000 uguale o inferiore a 30.000 euro. Siamo riusciti a dare copertura a tutte le 6.232 domande pervenute in maniera telematica entro lo scorso 15 settembre, ha sottolineato l'assessore alla famiglia Rosolenne, per un totale di circa 2 milioni di euro. Grave incidente questa mattina, poco dopo le 10, ad Artenia, in via Gemona, un ciclista è stato urtato da un'auto. Si tratta di un uomo di 67 anni, residente a Tavagnacco. Soccorso dai sanitari del 118 è stato elitrasportato in ospedale a Udine in codice rosso. Preleva denaro da uno sportello posta, ma utilizzando una carta rubata. Una 23enne è stata denunciata dai carabinieri di Tolmezzo che assieme ai colleghi di Come, Lianse e Maiano, l'hanno individuata nell'ambito delle indagini su un furto avvenuto il 13 agosto scorso a Luincis di Ovaro. Subito dopo l'ora di pranzo, i gnoti si erano introdotti nella casa di un ottantenne del luogo e l'avevano derubata rubandole dalla borsa al denaro e la carta postamat. Proprio con quella carta, dopo un'ora circa a Fagani, erano stati prelevati 600 euro dal conto della povera pensionata. Le risultanze investigative hanno quindi permesso di denunciare l'autorità giudiziaria e la giovane, già nota alle forze dell'ordine, per ricettazione e uso fraudolento di strumenti di credito digitali. In riferimento alle segnalazioni di odori molesti provenienti dalla zona industriale di Cormons, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente segnala ad aver già effettuato un primo sopralluogo a metà luglio assieme a rappresentanti della locale amministrazione comunale. Nel corso del sopralluogo sono state individuate alcune attività potenziali origine degli odori. Nei prossimi giorni continueranno i contatti, fa sapere l'ARPA al fine di programmare una serie di verifiche sul territorio per individuare con maggiore precisione l'origine e la tipologia degli odori che al momento non risultano essere associabili in modo univoco ad una determinata attività produttiva. E andiamo adesso a Trieste dove è in corso il Barcolana Sea Summit. Le conclusioni della seconda giornata sono state tratte dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli che ha focalizzato l'attenzione sull'approccio alle sfide del cambiamento e della transizione i cui obiettivi vanno centrati preservando tre pilastri ambiente, economia e società. A un evento molto importante in un contesto direi decisivo è stata molto apprezzata l'iniziativa della Società Verica Barcolagrignano, della Barcolana a voler ospitare in un contesto di una settimana degli eventi che mettono il mare al centro del dibattito. Il mare è una ricchezza importantissima per tutti i paesi genera solo per il Mediterraneo un terzo del valore del PIL italiano all'anno mezzo miliardo di PIL viene generato e di ricchezza viene generato dalla risorsa mare nel Mediterraneo. Quando si parla di sostenibilità e transizione ecologica sappiamo bene che questo percorso si fa soltanto se si fa tutti assieme e questo vale incredibilmente per il mare il mare non ha confini la risorsa ittica la biodiversità marina si muove liberamente e non ha barriere e quindi va tutelata e possiamo farlo esclusivamente con il dialogo tra i paesi che si affacciano sul mare. Credo che sia fondamentale avere questo rapporto istituzionale tra i paesi per gestire la risorsa ittica. Il nostro paese sta facendo la sua parte sia nella cooperazione internazionale sia nei bilaterali con gli altri paesi ma soprattutto con le risorse che vuole investire per tutelare da un lato e sviluppare l'economia del mare dall'altro. La transizione ecologica e la sostenibilità nella gestione del patrimonio marino e del mare in generale è un elemento centrale delle politiche del PIL nazionale di ripresa e resilienza e del Next Generation EU europeo. Ci sono progettualità specifiche per il mare, per i pescatori, per gli acquacultori, per la logistica marina. Credo che sia fondamentale in questo percorso il rapporto con le associazioni, con le categorie, con i pescatori perché la gestione del patrimonio ittico è anche tutela dell'ambiente marino e della biodiversità. Credo che questi momenti di confronto siano necessari, non soltanto utili e credo che vadano sempre nella direzione giusta, cioè quella di tutelare il più possibile il mare su cui ci affacciamo. Trieste che deve fare i conti anche con il maltempo in questi giorni e proprio a causa delle condizioni meteo avverse, il previsto punto vaccinale presso il villaggio della Barcolana non verrà aperto. Adesso andiamo a Villa Manin di Passaliano che ricorda i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte il 5 maggio del 1821 con una mostra ospitata nella sala espositiva della Barchessa di Levante. Sentiamo l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Un omaggio a Napoleone ai 200 anni dalla scomparsa a un omaggio che anche non poteva che essere qui a Villa Manin. Beh certo Napoleone per quanto ci riguarda è Villa Manin per l'orrendo trattato di Campoformido ma vabbè questa è un'altra storia che si racconterà in un altro momento. E che dire credo che fosse il momento giusto perché fare un ricordo di Napoleone come lo stanno facendo a Villa Manin come da domani sarà visibile a tutti durante il periodo nel quale c'erano restrizioni sarebbe stato riservarlo a pochi e non era giusto. Adesso invece abbiamo la possibilità sempre in sicurezza sempre rispettando le regole e esibendo il Green Pass abbiamo la possibilità di poterlo offrire a tutti coloro che avranno voglia di venire a vedere questa importante mostra su Napoleone. Con occasione anche per chiederle un commento rispetto all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto sulle capienze nella cultura dello sport e anche nelle discoteche. Io credo che fosse l'ora anche di dare il segno che davvero con il vaccino e col Green Pass abbiamo riacquistato la nostra libertà. Noi ci fermiamo qui per il momento solo un passaggio veloce per ricordarvi la nostra prima serata è venerdì quindi l'appuntamento alle 21 è con il Bar Gigia alle 21 e 30 tu per tu con la storia assieme a Guido Gomirato e Adriano Fedele questa sera è tutto ci rivediamo più tardi alle 19 in Norveg.